Voglio far uscire la giustizia dal fango del dibattito politico in cui è rimasta intrappolata per vent'anni. Voglio pensare ai tribunali, a far lavorare i tribunali. E poi c'è, guarda caso, processi più brevi, sentenze più veloci, che costano di meno, sentenze più veloci. E come pensi di farlo? Mi dica la prima cosa. Con un'opera di semplificazione che abbiamo già messo in atto, per cui diciamo che sarà molto più semplice fare i processi e quindi portarli avanti. E in secondo luogo, guarda caso, mi capita adesso di dover affrontare il provvedimento sulle intercettazioni. È la cosiddetta legge Bavaglio, che con grande orgoglio bloccherò, perché è una legge vergognosa. E su questo il fatto sarà molto contento? Perché ritengo che le intercettazioni siano fondamentali nella lotta alla corruzione, uno strumento importantissimo che intendiamo salvaguardare.